Adesso siamo proprio all'interno di Akihabara, c'è un caos totale, non si capisce molto Tutte le luci, ferramenta, non so dove siamo entrati, da dove si esce Tricoletti, con luce a palla, mi sembra che qua ci siamo entrati, c'è roba di elettronica, si entra e non finisce A caccia si mette assurda, uscire di là, quindi usciamo e andiamo a destra Andiamo di fronte Che roba tecnologica, non si sa che roba, a cosa serve Qua dice che c'è un piano Ferramenta a palla, palazzi che si sale e non si finisce Andiamo là Andiamo là Ma perché noi andiamo qua? Questa è Capco, queste immaginette, vedo Tutto fantastico Io andrei là Vorrei farvi vedere l'interno, ma non so se mi cacciano se entro con questo Vabbè entriamo, vendono cibo, palline, bevande, anime, manga, naruto, di tutto Ti sto per farvi rendere conto di che cosa vendono qua Cioè qua devi arrivare con una valigia vuota Due, tre mila euro da spenderti e acquistare Guardate, è il negozio della Sega È un negozio che si mangia, si beve, si fischia, fa di tutto Guardate, 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 guardate